Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale per il Papa Emerito Benedetto, che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa. Ricordarlo è molto ammalato, chiedendo al Signore di lo console e lo sostenga in questa testimonianza di amore alla Chiesa fino alla fine. Grazie. 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 Il sole ci sa di tanto. Buon benedì. Grazie. Buona foto da Don. Grazie. Mi ha visto tutti i miei suoi. Grazie per te. Mi sono molto ciò. Grazie a tutti. Grazie a tutti i miei fratelli. La mia preghiera vi accompagna sempre. Grazie. Buon�� grazie. Come si chi whoever sta un… Grazie a tutti i miei fratelli. A Greetings. Grazie a dwarf. Grazie a tutti.